Musica Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica settimanale che affronta i temi dibattuti nel Parlamentino della Toscana. Noi andiamo a vedere per questa edizione subito il sommario con i temi di questa puntata. Approvata a maggioranza la proposta di delibera che ratifica l'accordo di pianificazione tra Regione Toscana e Comuni di Firenze per il Parco Agricolo della Piana. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale, approvata a maggioranza la proposta di delibera che ratifica l'accordo di pianificazione tra Regione Toscana e Comuni di Firenze per il Parco Agricolo della Piana. Il documento approvato prevede che la Regione sottoscriva accordi di pianificazione con i Comuni che ricadono nell'ambito territoriale del Parco e che la strumentazione urbanistica di questi recepisca i contenuti del progetto. L'accordo consente al Comune di Firenze di perfezionare l'iter di formazione del piano strutturale per adeguarlo al cosiddetto PIT, il piano di indirizzo territoriale. Il ricorso all'accordo di pianificazione è un adempimento procedurale obbligatorio, necessario per armonizzare gli strumenti urbanistici delle amministrazioni competenti. Mi è sembrata una valutazione strumentale alla campagna elettorale. In realtà è la ratifica di un accordo che mette due punti fermi fondamentali per la Regione e che non pregiudicano affatto il futuro. Da un lato si fissa la dimensione del parco in 80 ettari, chiaramente questo non implica come siano disposti quegli 80 ettari, quindi in astratto non vi è nessuna incompatibilità con le progettualità future consentite al momento dal masterplan. Dall'altro lato invece, dato fondamentale per la Regione, si prevede lo stralcio dell'ex inceneritore di San Donnino che non sarà un'area verde ma sarà un luogo per collocare un impianto di recupero, come l'impianto che si propone di recupero dei RAI, dei rifiuti tecnologici, che non ha impatto ambientale e costituisce uno snodo fondamentale della visione del piano dell'economia circolare della Regione. Quindi a mio avviso un atto che è prima cosa fondamentale perché consente la piena efficacia del piano operativo del Comune di Firenze che era sospesa in attesa della ratifica, che riafferma i principi fondamentali e la presenza fondamentale del parco nella visione della piana e che mette anche le basi per la conservazione di tutti gli equilibri futuri con le realizzazioni che lì avranno luogo e con la salvaguardia dei principi a cui teniamo tutti moltissimo, anche noi qui in Regione. Quindi in realtà appunto la discussione ha preso una piega che non aveva niente a che fare con questo atto ma che era più legata al dibattito complessivo politico, soprattutto cittadino, sulla visione futura sulla piana e sugli atti e sulle realizzazioni progettuali che avranno sede lì. Quindi per chiudere c'è da dire che sull'aeroporto al momento tutti gli atti sono a livello del governo e comunque essendo una struttura di interesse nazionale qualunque decisione non verrebbe pregiudicata dalle decisioni prese a livello locale. Quindi anche se il piano contenesse una limitazione alla progettualità dell'aeroporto, cosa che non è, sarebbe comunque superabile perché l'interesse nazionale prevale appunto sulle determinazioni locali. Noi abbiamo votato contro alla ratifica tardiva del Consiglio regionale rispetto all'accordo di copianificazione col Comune di Firenze. È stata una cortesia fatta da Gianni a Nardella per consentire al Comune di Firenze di approvare il piano strutturale e il piano operativo a pochi giorni dall'inizio della campagna elettorale ma che contiene secondo noi un nodo irrisolto, cioè il rapporto fra il parco della Piana che viene di fatto esteso con il parco di Castello con la previsione dell'aeroporto perché già la sottocommissione nazionale di valutazione di impatto ambientale ha espresso tantissimi dubbi e perplessità sullo sviluppo dell'aeroporto proprio in funzione della sua contiguità con il parco e con le varie strutture di rete natura ci sono gli stagni, c'è il lago e conseguentemente c'è una presenza di avi fauna, cioè di uccelli molto rilevante. Più si insiste negli atti di pianificazione a parlare del parco e dello sviluppo del parco più è difficile la coesistenza con lo sviluppo dell'aeroporto e invece naturalmente ha non soltanto impatto sull'attività umane e quindi anche sullo sviluppo che c'è stato delle residenze, il nuovo polo universitario e altro ma ha naturalmente un impatto ambientale notevole e il primo pericolo di ogni aeroporto è il bird strike cioè la possibilità di collisione fra gli aerei e gli uccelli e conseguentemente l'abbiamo evidenziato oltre al ritardo con cui è arrivata questa ratifica perché di fatto il Comune di Firenze ha già votato il piano strutturale prima ancora che il Consiglio regionale ratificasse l'accordo con il Comune stesso e quindi ancora una volta il Consiglio regionale è stato messo in coda rispetto invece al ruolo che dovrebbe avere sulla pianificazione di un'area così strategica per la regione tanto che il PIT a suo tempo aveva previsto proprio il parco della Piana come una delle invarianti strutturali della pianificazione Il ricevimento di questo atto è sicuramente un intervento sul parco agricolo della Piana che vorrei chiarire è nato perché visto l'inquinamento, visto le problematiche che ci sono sempre state in quell'area era stato definito così come il polmone della Piana di Firenze questo intervento che è stato il ricevimento da parte del Piano Strutturale di Firenze c'è un consumo di suolo, un consumo di suolo che non sarà soltanto legato a quello che è il master plan del nuovo aeroporto ma sicuramente l'ampliamento del polo scientifico, il passaggio della tramvia l'aumento anche della scuola dei marescialli ma dulcis in fondo quella che è stata la causa che Unipol ha vinto con il comune di Firenze e in questa trattativa è stato inserito queste metrature, questo lotto all'interno ancora di quest'area per cui si va contro a quello che era un po' la destinazione del parco agricolo della Piana 2.000 abitanti, strutture recettive commerciali, turistico per cui assolutamente si va a un consumo ulteriore del suolo e questo potrebbe essere e potrebbe andare in contrasto proprio con il nuovo master plan dell'aeroporto per cui la provocazione che ci sembrava opportuna dover fare in aula era quella di dire che il ricevimento di questo piano nuovo della Piana di Castello scusatemi la ripetizione, sicuramente andrà in contrasto con l'aeroporto per cui significa che sarà una spallata che verrà data finalmente alla risoluzione e alla messa in sicurezza dell'aeroporto di Peretola Anche oggi l'atto che abbiamo votato in Regione Toscana non fa altro che confermare che c'è una volontà di continuare in questo progetto più volte in più forme bocciato della nuova pista di Peretola e lo fa con degli stratagemmi anche amministrativi che non condividiamo assolutamente C'è un solo principio da rispettare, quello dell'attenzione all'utilizzo della risorsa suolo che deve prevedere la sicurezza per quelle popolazioni che adesso sono sorvolate anche in orari non adeguati dai voli dell'aeroporto di Peretola la sicurezza idrogeologica che non può prevedere ulteriori volumi costruiti all'interno di quella piana che pochi mesi fa è andata nuovamente sott'acqua nonostante interventi già fatti e soprattutto non deve prevedere assolutamente quella che è la creazione di un nuovo aeroporto perché di questo si tratta fondamentalmente di cercare di mettere un tassello ulteriore per cercare di portare avanti un progetto che come ho detto più volte è stato bocciato ci vuole una messa in sicurezza per le popolazioni soprattutto dal punto di vista ambientale e dell'acustica e quant'altro ma non si può continuare a giocare sulla scacchiere di quello che è una partita importantissima per la piana in questo modo cercando in qualche modo di intaccare anche il progetto del parco stesso che fondamentalmente lo ricordiamo è un modo per tutelare anche l'ambiente e tutte le persone e le popolazioni che li risiedono Fermo restando che mi sembra che se si legge tra le righe tutti sono favorevoli a questo aeroporto e a che funzioni meglio perché si dice e si vuole far capire che non ci sia una contrapposizione con l'aeroporto di Pisa e conseguentemente devono essere in sinergia è anche vero che parlando in maniera fuori dagli schemi il fiorentino che non trova nel proprio aeroporto lo sviluppo desiderato forse non va a Pisa ma va a Bologna per cui è bene che l'aeroporto di Firenze trovi uno sbocco poi è ovvio che nei giochi politici si massimalizza quello che è il danno per la zona della Piana che quindi inevitabilmente verrebbe sacrificata o comunque ci sarebbero tutti i rumori e quant'altro però è ovvio che l'aeroporto di Firenze debba avere uno sviluppo importante questo credo che in cuor suo ogni toscano lo ritenga importante presentazione del progetto il treno dei lettori toscani che in occasione del Salone del Libro di Torino nel prossimo maggio prevede la partenza da Firenze di un treno speciale che porterà 450 cittadini toscani gratuitamente a Torino 50 i biglietti che saranno riservati al progetto Under 30 rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni che potranno anche prendere parte a un tour dedicato al Salone del Libro lo stand della Toscana quest'anno a Torino triplica gli spazi espositivi con la presenza di ben 33 piccoli editori toscani selezionati con un avviso pubblico nei mesi scorsi che animeranno le esposizioni con incontri e presentazioni con gli autori l'iniziativa al Salone del Libro è del Consiglio regionale di Giunta della Regione Toscana e prevede il sostegno di Unicopa Firenze il progetto il treno dei lettori è un progetto che avvicina la cultura toscana e la cultura del leggere in Toscana a quello che è il Salone Internazionale del Libro di Torino come Associazione Guimido, come Gabriele Ametrano, presidente dell'associazione faremo un intrattenimento all'interno del viaggio di andata del treno una sorta di radio dei lettori toscani un intrattenimento che vedrà avvicendarsi quelle che sono le voci presenti nel treno dalle istituzioni a quelle che sono i progetti che poi saranno protagonisti in quello che è il programma nello stand della Regione al Salone una programmazione che vedrà Animeloci e la Toscana delle donne con i suoi protagonisti presenti nel treno e poi un racconto di tutte quelle che sono le iniziative toscane verso il Piemonte in questo caso, il Salone del Libro ma tutte le iniziative toscane che riguardano la lettura che sono presenti in Toscana per informare e approfondire proprio i progetti che ci sono sul nostro territorio Unicopa Firenze ha dato la propria adesione e speriamo anche un contributo a questa bellissima iniziativa della Regione Toscana per noi cultura significa accesso e socialità quindi cosa c'è di meglio che andare insieme con un treno che la Regione mette a disposizione di chi vorrà gratuitamente al Salone del Libro di Torino che è la versione bella del Paese dei Balocchi per gli amanti della lettura noi naturalmente con Regione da circa 15 anni abbiamo un progetto attivo volontariato dei libri all'interno dei punti vendita le 40 Bibliocop che è un grande motore di partecipazione in questo caso noi supportiamo la Regione attraverso una piattaforma per le prenotazioni e attraverso un contributo diretto che mettiamo a disposizione per tutti gli under 30 quindi chi ha meno di 30 anni è interessato alla cultura e vuole approfittare di questa bellissima occasione è dal 2015 che Toscana Libri allestisce e organizza lo stand della Regione Toscana che nel 2017 è stata anche Regione ospite quindi quella di quest'anno è un ritorno in grande stile ospiteremo 33 editori tra quelli che hanno partecipato al bando più altri che invece fanno parte di un tavolo collettivo di tutti gli editori che fanno parte del circuito di Toscana Libri quindi il nostro ruolo è un po' quello di fare da collante da tramite tra tutti questi editori sia nella parte proprio espositiva quindi di novità e prodotti librari ma anche proprio nell'organizzazione di tutto un calendario di eventi che per i 5 giorni di salone animerà lo stand ogni editore tra quelli che hanno partecipato al bando può mandare all'incirca 20 titoli e quelli del tavolo collettivo una decina quindi insomma direi che l'offerta culturale della Toscana è ampiamente rappresentata Siamo giunti alla termine della rubrica settimanale sul Consiglio regionale della Toscana noi ci fermiamo qua anche oggi abbiamo seguito il confronto in aula il dibattito tra maggioranza e opposizione e noi vi diamo il nostro appuntamento alle prossime edizioni Grazie a tutti